Ma per a tutti ragazzi, oggi siamo qui nel nuovo video, spero che vi piaccia comunque, scusate per l'inattività di un mese e anche di più Allora, però comunque ho da fare, non ce l'ho voglia di fare i video in quel periodo comunque Allora, arriviamo a dare like per il prossimo video, insomma commentate, iscrivetevi, comunque seguitemi su Instagram, trovate tutti i link in descrizione Allora, spero vi sentia bene Allora, oggi mangeremo la pasta fresca, adesso vi faccio vedere, la pasta fresca con il ragù Ehm, adesso vi faccio vedere Sempre se si mette a fuoco, perché Qui dentro è con la carne Allora, spero vi faccio vedere Allora, spero vi faccio vedere Allora, spero vi faccio vedere Grazie a tutti. 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 Spero che il video vi sia piaciuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.